Terasamo, skippiamo, non mi ricordo i tasti Fermati Non l'ho preso! Aia! Fuga! Neh! Preso! Piato distrutto! Mamma mia, turbo bloccato Ti meriti sta botta Molto bene Aia! Che abbia molte, come si chiamano Non mi viene il termine tecnico Ispirazioni, ecco, per farlo Qui l'ho No! Fuga, lo faccio lo stesso Anche se non mi conviene Preso No! No, no, calmo, 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 calmo Non c'è, non c'è problema Aia! Attaccatevi Vabbè, rendiamo la vita Ah, io ho rotto la spada, Godo Godo godissimo Sì! Fermati Ti fermerai, eh Eeeh, se ti fermerai Vai Bastunalo Ah, andategli addosso Mena Fuga Ti sarebbe piaciuto A Guantalla Lo devo fare? Sì, l'ho battuto Forse Aiuto Oh Purello E che devo fare? Purello Paro Ma c'è qualcosa che non va? Che non quadra? No Usa rotto Ah Purifichiamolo Oh, primo tentativo oggi, eh Salve, Taro Tutto a posto? The sickness that took our parents Was spreading through the village Spirits of the forest Walk with our people Guide them on their journey to the mountain shrine Food was running low Everyone was scared I never felt so helpless Sia wanted to stay But I thought we could go to Rusu for help I was sure he would know what to do Something was not right in the woods I had never seen Rusu so worried He sent us back to the village And I knew we were alone I was all that Benny and Sia had left I had to protect them And I said to myself I said to myself It happened the next morning. La montagna di Crysis. The explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Oh no! No! Benny! Saya! Where are you?! It lasted for days. I searched everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother. And they still need you. But they still need you. That's right. Hello everyone. I'm sorry Keina We can't take you to the mountain shrine It's okay You have to go now Samput rawa Penumwaya nesan diri You have to go now You have to go now You have to go now Oh ma quel ruso là che scappa, to santonare dalle maschere per onorare Taro quanto grosso sto robo puro robo sbloccata nuove sfide disponibili si si guarda le faccio subito salve pure Nightbot che adesso inonderà la chat e niente da quello che ho capito io fino adesso io credo che fosse morto soltanto il fratello invece sono morti tutti tutti e tre i fratellini perché erano degli spiriti ah lo andò cazzo devo andare ah non c'è un trasporto no eh un trasporto normale allora strada giusta mi abbassa un po' l'audio perché porca puttana quanto e beh se ci sono più i ritardatari allora andiamo 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 ah ma queste qua sono in bagno erano le foreste che ieri c'erano tipo la dovevo correre tirate su si però quello lì in mezzo alle balle che non mi fa vedere quello nuovo e che caso mi sono già perso però devo andare di qua turbo c'è spui di giganti dovremmo essere a metà gioco adesso vedrò bene quanto farà adesso semmai dopo lo finiremo questa sera magari l'ultima oretta di che ah qua c'eravamo già stati dovremmo anche andare a consegnare della posta guarda adesso mi sono già portato abbastanza avanti con Mortal Kombat 1 a febbraio esce anche il nuovo personaggio di Street Fighter ma soprattutto giovedì a mezzanotte comincieremo Tekken 8 quindi nelle prossime settimane soprattutto porterò Tekken 8 con le varie modalità storie e arcade quindi con Mortal Kombat ci saranno i video su YouTube perché mi sono portato avanti e torniamo indietro si si perché prima ho fatto l'acquisto dopo vado a scegliere l'edizione da acquistare e da quello che ho visto posso giocare a Tekken 8 già dalla mezzanotte di giovedì quindi già a mezzanotte cominciamo un'oretta di storia io qua al fillaggio adesso dovrei consegnare anche della posta ma dove la consegno? ah qua sono tre poi troverà tutto il giorno dopo su YouTube quindi non c'è problema intanto poi trasporto tutto su YouTube non si preoccupi prima posta consegnata se mi pare ce ne ho sicuramente un'altra però dopo me ne manca una non volevo aprire quella non volevo aprire quella in mezzo benissimo aspettate ma urge fare la foto per forza da che dobbiamo andare a acquistare altri cappelli yeah un altro forziere altro cappello bellissimo con le cozzinelle ma posso cadere la mi sa di sì però tutto dritto c'è un'altra cosa da consegnare questo se è questo addirittura qua questi stronzi ma ecco questa qua sembra una zona di zello che c'era un villazzino con queste robe qua bacca tutto ma che è quel nano lì no lucerto altro spirito liberato dato che non c'è più nessuno qua mi sembra giusto di prendere tutti i suoi possedimenti per forza lol spammabile filadelfia sponsor della supercoppa italiana e della lega di serie A schifosa che è un altro cappello che è un altro cappello fungo giallo ma non mi sconfino madonna mangiate ma sono spariti sono stati inghiottiti a ricordo di logica io ci avrei sarebbe questo qua però io non so se ho eh la filadelfia ho detto la filadelfia inizia il combattimento con un'azione rot disponibile quando colpisci un nemico bloccato la tua freccia si spezza infizia i danni ai nemici vicini mentre salti premi alle due per eseguire un devastante attacco aeroe dall'alto ma questo ah magari è questo senza ok ok giustamente oh finalmente ho sbloccato quello che volevo madonna quanto è grosso sto coso ma soprattutto dove devo portarlo e cadi ah ok ah qua sono in un'altra zona pezzi di merda aia stavo facendo una roba meno male che non l'ho fatto ah non posso beccarli oh a pezzo di schifo porca miseria questo quando cazzo è uscito che non esista che mi ammazzano questi beh ecco forse è questo sì che palle oh ma che cazzo succede tutte le volte madonna che due coglioni manderò una cazzo di segnalazione boh ma da un paio di giorni che verso questo orario qua si sminchia sempre qualcosa chiedo per vedere la connessione due palle fatto che spero che non abbia modificato se non abbia diviso la live aia bastardo beh adesso non credo neanche io perché ho iniziato subito però ieri purtroppo ho iniziato dopo un po' e me l'ha diviso che due coglioni a trarimento anche perché il fatto non è che cioè non ci faccio caso se si stacca la la linea perché non ho gli occhi su su cosa ah muovete sto cosa mamma mia la mira ma con calma eh no è a tempo potanna what 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 perché perché non è più attivo magari non sotto ponte di baracca ok ah mi sa che devo aspetta fammi entrare qua dopo forse ho capito l'enigma incredibilus che bisogna fare ah se non mi sbaglio nooo e questo e questo curviamo curviamo ah secondo me devo rifare questo qua non è un altro perché non ha sbloccato non ha sbloccato manco niente no cacchio vabbè allora continuiamo a farla ruotare che vedevo di qua però si può entrare qua però si può entrare mettiamo giù il ponto sono cagato addosso andiamo in giro a cugolare i yaveri di tutti quelli che erano qua dentro ok qua si ero già stato sto andando in direzione della posta che dovrei consegnare che è tipo quella casa là però non credo di avere quella posta lì quindi non c'è posta per te oggi ecco ma cazzo ah ce l'ho? dai che andiamo a prendere i nuovi cappelli spacca tutto eh boh? eh diciamo che Xiao è molto è molto ecco eh vabbè dobbiamo aprire questo forziero è maledetto vabbè sono i nani ci stanno i nani speriamo solo quelli adesso ne esce uno turbo grosso di guns ahia bastardo non quelli volanti ah in 40 secondi non ci avevo fatto caso che dovevo ammazzare i nemici ahia no menate però saltate fuori anche stronchi ma che me ne manca uno ma io volevo aprire anche le altre nuove spiritiello azzo 18 nemici in 113 secondi mediamente sembrano anche abbastanza semplicine come missioni prove a te vaffanculo soprattutto perché i nemici saltano fuori ecco questo qua c'è un po' un problema un attimino più grosso dovrebbe essere a circa metà gioco credo tranquillamente superato mancano due beh ah stava dindo cazzo era e adesso ci sarà la turbo prova della vita per forza a a fa a a a a a a a a pezzi di merda a 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 fatemi riprendere ste va bene un turbo turbo unico e ma come faccio a tornare indietro scusate aiuto a ok meno male che l'ho visto allora dov'è il coso per causare buongiorno rispetto al santuario dell'acqua nella foresta dimenticata si aspetta e spera ok mi lascia andare perfetto la c'è il coso dei cappelli che andiamo subito a mettere forza allora un funghino un paio di cozzinelle fungo trifoglio cervo taro maschera maschera unicorno e voilà aspettate si può fare la roba giusta questo qua che salta continuo a fare le foto dove devo andare punto di domanda eh sì di qua perfetto e qui ecco ma no non è questo fanculo seguitemi qua onora taro santuario a ok l'ho fatto e non me ne penso interagissi con l'incisione dimenticata dietro al santuario della maschera per riaffrontare i boss si sto cazzo proprio sto cazzo ci penso neanche morto sperando la nuova prova che si bloccheranno nel corso del villano che non potrà ottenere abiti cristalli e cappelli roti esclusivi ah ok io devo ancora onorare però faro resta con gli amici i immagino che la corruzione in la foresta si è riuscita anche sicuro Maschera di Adira Aiuto a fare l'hame, cerca a fare l'hame nei campi oltre il magazzaino Andiamo Bellissimi nanetti, devo andare là dove sto guardando la maschera del connudo Il connudo di qua Non ho manco bisogno di guardare la mappa, incredibile Qua Ah Voila No ma c'è ancora dei nanetti che non hanno i caschi Che non hanno i capelli, non va bene Anche perché adesso mi sono ricordato quando ho acquistato i capelli mi sa che ho sputtanato un po' di money Non vorrei dire una cavolata, devo andare qua Eh la madonna Eh certo, più lontano Figa Eh infatti non sono più un cazzo di gemme figa Gli ho sputtanati tutti con Con i cosi Con i cappelli Mortacci loro Eh certo Eh certo Lei chi è? Eh lo sapevo eh Questo qua era lo stronzo del boss Il cavaliere di legno Che è diventato un bo... un... un coso normale Ma porca puttana Quanto me lo sentivo Non c'ho quell'attacco Bischero Eh questo rompi coglioni Perché io lo sapevo porca miseria Che era così Codo Turbo suca Io ci ho messo 40 minuti Invece adesso ci ho messo 2 secondi Bello Le piantine Però io non volevo fare sto mestiere qua Da Kena d'Harvest Moon in 2 secondi Volevo andare o un pesto coso? Perfetto Ripiantato tutto? Qua devo rompere eh Porca miseria No 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 ti prego no Ah meno male Allora Allora No Ah A posto Intanto mi sa che devo andare pure di qui Oh Devo andare di qua Ah no Ah no qua Devo consegnare la posta Che non c'ho Perché io mi ricordo bene Fabio Che c'era un pezzo Platform Dove a tempo Dovevi lanciare tipo le frezze In mezzo a Dei cerchi Una roba del genere Che attivava il percorso dopo E mi ricordo che a quel punto là Avevo avuto un po' di difficoltà No No perché si è chiusa A bischiera A parte che non li blocco mai Cori E che posto è me questo Bello la testa di Coso Che fa Che fa i mistiri Dell'unicorno Il casco Allora Enigma Enigmone Sembrava una pietra No Allora No, 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 no. Il landa è iniziato a cura. È questo lo che ti fa? Mi nome è Keina. Mi aiutavo Beni e Saia liberare Taro's spirito. Mi sono in modo a aiutare il woodsmith. Hai la tua? Sì, conosco Adira. È una grande woodsmith. Siamo troviamo un modo per capire la energia del montaggio. Le bombe. È dovrebbe essere quello che ti fai a questo posto. con il foco puoi scegliere quella energia la vostra bomba dovrebbe provare utile in potere tutte le tecnologie di qui bisogna riparare i mecanismi di potere per aprire il passaggio ti è premuto L2 quindi premi e rilascia R1 per lanciare una bomba la bomba fa fluttuare temporaneamente determinati occhetti ah ok ha già capito quali oggetti con te non ci parlo più ma quindi posso saltare anch'io scusate eh ok mi dice anche questi massi ecco faccio prima eeeh mamma mia pelo godo no godo pochissimo proprio adesso ho capito perché ci metteva tanto a esplodere porca la miseria bello e liberiamo il posto da questi stronzi mi fami mamma mia che fastidio godo dai che non mi ha rotto qua ah no si che lo ha ah l'ha posta questa ok no non me la dovrebbe aver o me la no non me la oggi non me la divisa la live per fortuna anche perché sono stato veloce apri apriamo bella come meccanica e bella come zona anche se non si vede quasi nulla vabbè mi fermo qua non so se ce la faccio andare la porca la mamma mimio apelo certo che anche io potevo mettergli mettermi già sul masso eh no me lo faccio magari un po' di luce c'è non andava male qua eh ah ok ammazza che culo ammazza che culo e mi butto tanto qua abbiamo fatto qua invece dove mi porta no ma mi sa che tanto ci arrivo di qua no credo eh bello esatto ma no che li han cambiati che stavo avendo quello là ah no minchia sto andando qua e come faccio andare là no perché io c'ho paura che si scendo qua a posto è certo pezzo di merda no no ma qua c'ero aia le botte no però le farfalle no tutto ma non le farfalle godo ma tanto non avete idea di quanto io posso godere pezzo di merda pezzo di merda vita vita farfalle di merda farfalle di merda ok ok culo a voi attenzione nuovo amico no 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 ma vede il danno è subito 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 un fioro della salute un fioro della salute forniscono i fiori della salute ah un gioco scudo si si è completamente in caso di parata ma ma facciamo che mettiamo questo facciamo proprio che mettiamo questo ogni tanto controllo perché non si sa mai bravissimo streamer top streamer mai nella vita è la madame è certo è fortuna che ho fatto ho preso un passaggio giusto è mamma aspetta un attimo alla prossima e come faccio come faccio ad arrivare la dai cadete su oh trick track eh no mamma mia aggra passion mamma ma the best salve salve no però io devo andare qua eeeh aspetta one moment please one moment please one moment please perché sono sparuti perché sono sparuti ah ok ah ok yeeeh ah ci hanno proprio le masse allora per fortuna che posso fare ancora sto messiere qua perché sennò la vedevo ancora molto dura mettiamoci in giusta posizione voilà è meglio arrivo senza ammazzarmi però sbagliato ciò ciò non c'è ciò 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 Grazie a tutti.